Buongiorno e buon anno a tutti. Oggi chiudiamo l'anno facendovi vedere che realmente con un video in diretto sono messi su di quella della patrice. Ora vi spiego sempre, dalla più piccola al più grande non cambia nulla. La pieghiamo, accorgiamo tutto il peso. Cosa fondamentale è la pesa. Una volta che ho fatto pesa e appoggiato, sollevarla, non ci vuole nulla. Ma voi dite, ma questa è piccola, 7 kg. Il peso ha 50 kg. Andiamo avanti. E andiamo con un Alistone. In questo caso il peso è di 70 kg. E stessa cosa. Non cambiamo nulla. Andiamo sempre a fregare adesso le ginocchia. Cosa fondamentale, come dico sempre, è la pesa. Una volta fatto questo, la zappa è semplice. Ma voi dite sempre 70 kg. Non avete ragione. Ah, facciamo un po' quella che è più pesata. La LG, da 10 kg e mezzo, con un peso di 80 kg. E' la stessa cosa. Ormai ci siamo ripetuti tutto l'anno. Un'ottima crisi. E' assoluto che vado a fare. Non è un'ottima crisi. Insomma, come dire ragazzi. Gli esperti. Siamo loro.